Ognuno di noi imprenditori può fare una piccola differenza. Se invece ci uniamo tutti, possiamo fare una grande differenza. E possiamo veramente far vedere come si può fare impresa in un modo diverso e iniziare un modo di agire diverso per le imprese. È stato bello perché oggi c'erano molte idee, ma molte idee concrete. Molte cose su cui lavorare, su cui ragionare, esperienze che ognuno di noi si può portare a casa e iniziare a mettere in pratica da domani. Quindi è stata veramente un'esperienza molto coinvolgente. Time to be!